3 Marti 2021! Oggi burpee mile! Dovete fare un miglio di burpees in qualsiasi modo come volete, potete saltare il più lontano possibile tra un burpee e l'altro e completare i 1600 metri. Vi assicuro che è molto divertente anche se sicuramente avrete anche le gambe un po' spaccate domani, ma di questo ne parliamo domani. Ciao!